oh sei un genio vai pestalo, pestalo ragazzi abbiamo trovato l'arma per uccidere i ragni senti la roba che stai in sopanto vieni qua sai come si riuscirà il nostro errore? no mamma, non ce la fai spacchi il muro e non ce la fai e a me di punta di punta, di pubiglia no, così di pubiglia posto nero in buca d'acqua attenzione con questo tiro si decide la partita ultimo tiro per Matteo vai sei una piccolissima il video non è pescante è vero? no! cazzo è mortare l'hai preso allora cos'è quello? cosa? ti dai l'altro te lo sto agendo il terrovo se io mi spoglio no, non sto agendo il terrovo se io mi spoglio non sto agendo il terrovo ecco ti chieda l'altro ecco 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 è vero è vero ecco è vero ecco è vero ma basta basta che mi vede attaccato mi vede attaccato alla pala non ti prega niente anche la sezione ora no basta sei fermo ma tu che ti ho vinto faccio questo lavoro ma tu che sei un veterinario e io li tenesti quando sei già morto eccolo qua c'è il figlio bene basta anche lui ok ti posso dare no vuoi un pezzo di l'oro no guarda che è tutto sotto sei fermo è tutto da dietro è tutto da dietro non lo muovo ma si porta la sopra no mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace è tutto